Il piano di riordino della viabilità nel centro storico di Gela continua a far discutere. Ieri il comitato di quartiere dello stesso centro storico ha evidenziato alcune problematiche che interessano la zona, il riferimento è alla ZTL. I residenti del Corso Vittorio Emanuele e della via Bresmes, cioè quelle vie interessate al provvedimento della ZTL e anche della nuova viabilità, hanno manifestato le loro perplessità per non poter raggiungere le proprie abitazioni durante l'orario di ZTL, soprattutto perché si protrae fino alle 3 del mattino. Quindi c'è una richiesta forte da parte dei residenti di poter raggiungere le proprie abitazioni per sostare brevemente e per il carico e lo scarico di merci, superlettili, tutto quanto altro può servire a una normale via. Eravamo d'accordo per una ZTL con un orario decente settimanale che poteva essere aumentato nella fine settimana, ma tutti i giorni, fino alle 3 di notte, diventa insostenibile. Il comitato di quartiere avanza alcune proposte all'amministrazione comunale. È nata anche l'esigenza da parte di tutti i residenti del centro storico di cancellare queste benedette micro aree per la sosta gratuita dei residenti e trasformarle in macro aree, cioè avere la possibilità in ampie zone di poter parcheggiare. Un'altra richiesta che è venuta fuori è quella della verifica delle strisce blu, perché in centro storico esistono soltanto strisce blu con pochissime strisce bianche, e anche dell'occupazione abusiva, tra virgolette, da parte degli automezzi comunali, che sono disseminati lungo tutto il tragitto delle strisce blu, impedendo agli altri di poter sostare tranquillamente. Lo stesso comitato di quartiere attende ancora di avere un incontro con la sindaco per i temi che interessano l'acqua, la pulizia, la manutenzione e la sicurezza.